Dopo il 1989 dovrebbe essere evidente, di più chiaro come il sole, capitalismo non fa rima con democrazia, uguaglianza e libertà. Fa rima semmai con disuguaglianza ogni giorno crescente, con asimmetria ogni giorno più marcata nell'ordine di una società interamente reificata sotto il segno della forma merce. E questo va detto contro i cantori fukujamisti dell'endovistori capitalistica, va ribadito contro gli aedi zaratustriani dell'eterno ritorno del libero mercato con annesse chance emancipative per l'intera società. Il mondo passato intieramente sotto la forma merce, Berlino 1989, non è affatto più libero, democratico ed eguale. Al contrario si pone sotto i geli di raggi di una ragione strumentale, per dirla con Adorno e Horkheimer, che rende ogni giorno più disumanizzati i rapporti umani e ogni giorno più barbara una produzione che pure diventa ogni giorno più razionale, ma di una razionalità strumentale, tecnica, legata al pensiero calcolante che del pensiero pensante è il pervertimento. Sotto questo profilo il capitalismo continua a promuovere con i padroni del discorso quella che esso chiama uguaglianza e che in realtà meglio andrebbe definita come omologazione. Più precisamente il capitalismo genera una omologazione planetaria, un livellamento cosmopolitico, già che include tutti i popoli del pianeta nell'unico modello consentito, quello del consumo, dell'alienazione, del classismo, dell'imperialismo americano-centrico e della reificazione su scala planetaria. E insieme appella con la nobilitante etichetta di uguaglianza quella che in realtà è, sic et simpliciter, omologazione. Di più il capitalismo nell'atto stesso con cui omologa tutti i popoli del pianeta sotto il segno della forma merce, delle alienazioni che la contraddistinguono coessenzialmente, genera una forma di disuguaglianza ogni giorno crescente. In sostanza il capitalismo omologa e rende diseguale. Chiama uguaglianza l'omologazione nell'atto stesso con cui omologando produce disuguaglianze ogni giorno crescenti fra gli uomini e ciò in ragione del fatto che il capitalismo, Marx-Docet, si fonda non per accidents ma per sua essenza sulla disuguaglianza, sul classismo, sullo sfruttamento del lavoro umano e quindi su una simmetria che non è accidentale e riformabile ma è consustanziale alla logica stessa del capitalismo. Il capitalismo produce, per dirla con Marcuse, l'unidimensionalità planetaria, per dirla con Heidegger, l'uniformazione globale, include e neutralizza al tempo stesso, procede includendo tutti i popoli del pianeta nel modello unico globalista e insieme ne neutralizza, devitalizzandole e disattivandole, le differenze, le specificità culturali e chiama uguaglianza all'omologazione. La sola forma di uguaglianza che il capitalismo conosca è la cattiva uguaglianza dell'omologazione, della indifferenziazione, dell'essere tutti il medesimo e quindi della distruzione di tutte le differenze, le specificità culturali che vengono giudicate come incompatibili, non organiche rispetto al capitalismo stesso e quindi degne di essere abbattute in nome del modello unico. L'unica soggettività consentita nel mondo unico della reificazione planetaria è quella del consumatore sradicato e post-identitario, uguale da Tokyo a Berlino, da Nuova York a Roma. E chiamano questa omologazione planetaria uguaglianza, quando in realtà è, dicevo, indifferenziazione, dissoluzione delle diversità. Il capitale è eterofobo, non accetta l'eteros, l'altro, il diverso, vuole vedere ovunque il medesimo. Il capitalismo nella sua fase absoluta, cioè pienamente realizzata perché sciolta da vincoli che lo contengano e lo frenino, è perciò stesso un capitalismo speculativo, è uno speculum che vede ovunque rispecchiato se stesso. Il capitalismo pienamente realizzato è speculativo perché vede ovunque rispecchiata la forma merce, nel reale e nell'immaginario, nell'immateriale e nel materiale. Il capitalismo dunque produce una omologazione planetaria perché egualizza il mondo intero nella diseguaglianza capitalistica, produce individualità seriali svuotate di coscienza, l'homo vacus et cosmo politicus, che di fatto fungano da meri supporti ideali per la libera circolazione delle merci, che diventano una volta di più i veri soggetti del modo capitalistico della produzione. In questo senso non chiamatela uguaglianza, è semplicemente omologazione fondata sulla disuguaglianza ogni giorno crescente.